Ciao ragazzi sono Tanix e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Ma perché dico Fortnite? Di Fooddraft Ragazzi ho vinto 12 special pack, 120 coins Cioè Tonks E 2.400.000 soldi Ragazzi andiamo lì ad aprire insieme Oltre a queste cose qui di questi special pack Ho anche dei pacchetti miei Vedete qui? Mamma mia Andiamoci ad aprire uno di questa Vabbè raga non ci uscirà niente però andiamocela ad aprire Allora 1 2 dobbiamo andare di fretta raga Se no non finiamo mai 2 ok Diaz nuovo 3 Oddio Oh subito qui Anni Poi andiamoci ad aprire 10 di questi dai Oddio questo ha fatto schifo Ok andiamo avanti Ok Mamma mia raga Non ci posso credere C'è un botto di pacchetti Quando me li apro Ok un altro Ragazzi fin quando non ci esce qualche if Qualche leggenda da qui dentro No vabbè andiamoci ad aprire 10 come ho detto Allora Ok Volevo vedere che non ci esce nemmeno la leggenda di special pack Che vi scommettete Raga ma niente Non mi sta uscendo un cavolo Andiamoci ad aprire altri due Ma sai che c'è raga mi è arrivato a aprire proprio tutti di questi Un botto di doppioni mamma mia Voglio trovare qualcosa in questi 80 doppi Voglio trovare qualcosa Vediamo Oddio Cos'è? Ragazzi è riluminata Viola e blu Non mi era mai successo Boh chissà che carta è Forse era rara Perché mi era riuscita Già era pure doppione Boh Cos'era buggato Boh Ok Cardio 87 Buono Andiamoci ad aprire altri 5 Ok Sirico pure Oddio mamma mia Ragazzi riesco a cercare di vedere quando apri sti pack Andate più avanti con il video Sennò Veramente vivi nella mosceria Ok Andiamo più avanti Dai raga Altri due Dai Fatemi trovo qualcosa in questo In quest'ultimo pacchetto 3 2 1 No Vabbè Comunque hanno fatto l'aggiornamento Se non mi hanno fissato sti cosi Oddio raga Andiamoci ad aprire prima questa 1 Alexandra 86 Raga mi posso vendere un botto di roba giallo Che ne so Boh Questo ok Giuliano E questo Adesso raga passiamo gli special pack Oddio Mamma mia Vabbè non tanto buona però Ci sta Ok nuova Perché non ho mai visto questa bandiera Bayer Monaco Ah no È doppione Ah Lewandowski è doppione Ok dai Andiamo avanti E andiamoci ad aprire questi pacchetti Aspettate Ecco qui Dal primo dai Primo non c'è uscito niente Andiamo con il secondo Mitrovic Poi andiamo con il secondo Secondo Oddio una leggenda Mamma mia Mamma mia raga Maradona 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 No vabbè Mor Non so se era di questa bandiera Ah no Portiere Ok Semiscello Ok portiere 86 Poi andiamoci ad aprire un altro Ok carta normale If Poi Andiamoci ad aprire questo Oddio Che bello I nuovi raga Renato Sanchez 81 Poi Ok un'altra leggenda Da raga Maradona Lo voglio Opeleo Maradona Francia Che ruolo Non ho idea Nuovo Pires Ok vediamo Più avanti Dai No Oddio Ah naif Vabbè Sì naif Vediamo Salah Se mi esce Salah E' Salah Ragazzi non ne capisco Non è che 89 Nuovo Salah Ok Mi è uscito sia il 90 Sia l'89 Ok buono dai Direi buono Facciamo così Ok un'altra leggenda Mamma mia ma quante leggende Ci stanno uscendo Dai Un doppio Brasile Ok ora il video si era stoppato Perché avevo la memoria piena Comunque era il Digno 89 Continuiamo il nostro draft Ok 5 Altri 5 dai Oddio Questa E' di Halloween Ok Dos 80 Ma dove l'hanno fa Ok si era buggato il giocatore Andiamo avanti Ok Usage Poi Oddio Ma cos'è oggi raga Verdi 81 Beh è rara Non è che Un numero elevato Un'altra leggenda Mamma mia Un'altra leggenda Argentina raga 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 Rb ma perché Perché mi rovinate tutto Zanetti Madonna Perché Non ci potevo uscire maratona Raga no Ok va bene ragazzi Conclude così Vai ok Andiamoci ad aprire un altro di questo Vabbè Non c'è uscito nemmeno le strisce Nemmeno rara Vabbè raga Andiamoci ad aprire anche uno nello shop Qui Questo dai Andiamo E si conclude così Con una carta Riccardo 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 Ok raga Ne possiamo aprire un altro Ne apriamo ne un altro Ok Normale Normale Camarra Ok raga Spero questo spacchettamento Vi sembra Ah no Oddio Ho anche questi Raga Non ci posso credere Oddio raga Vediamo Vediamo cosa ci esce Madonna Non era finito lo spacchettamento Allora Mertens 87 Ne tengo un miliardo di Mertens 87 Non ci serve C'è una cosa veloce Raga Se no Non finiamo più Oddio Mamma mia Chi è Spagna Manchester United Un portiere Forse De Gea Lo devo vendere Lo devo vendere Ok Filippo 82 Anche Dai Mané Amsing 89 86 Eh sì 89 Ok Oddio no Non ci credo Non ci credo Se è Messi Ah no Ma Messi non è così Oddio ST Ok 90 Griezmann 90 Da bene Così Bene Così Altri 5 Dai ragazzi Sto scendo Roba buona Ci sto scendo Roba buona E intanto Stavo guidando Il video Veno male che mi sono accorto Di questi Tonks Che avevo Se no Abomayang 87 Andiamo avanti Ah ma raga Muller 86 Ma quanta roba stiamo trovando raga Strattman 83 Andiamo veloci Andiamo veloci Ok 83 Martial Andiamo avanti Ok niente Un cavolo Bebelotti Ok Socrates 74 Quaresmo 84 Romero 81 Anche c'è uscito Nella coalizione Non niente Ok andiamo avanti Niente E poi se me li vendo Prendo 2 milioni In altri 2 milioni Oddio Ok stracoscia 80 euro che posso vendere Vabbè ma Lo tengono Non lo so poi Un altro stracoscia Due volte Oddio Mamma mia Ma che cos'è Ma che cos'è Mamma mia Ma non mi sta uscendo niente più Alla fine Dai dai Carte buone Carte buone Alla fine per favore Doom No Dai raga per concludere Dai No Dai apriamo l'ultimo E finiamo questo spacchettamento Per lo spacchettamento di oggi Può finire qui 3 2 1 Ma mi porto sfortunata solo Oddio Per lo spacchettamento di oggi Si può concludere qui Ok non ce l'ho Non ce l'ho Cavani Eh però Ma che cavani Che sto dicendo Si cavani Ok raga me lo vendo Me lo vendo Me lo vendo Me lo vendo Ok raga Vediamo se lo vuole qualcuno Facciamo un po' di Calcio mercato Intanto sta ancora registrando Ma no Se non stava registrando Ok inter-trade vediamo Chi vuole sto cavani Proviamo a vedere Ragazzi non vogliono cavani Mamma mia Dai che me lo vendo Dai Oddio ma Ci mette molto tempo? Ok raga ok raga Andiamoci cavani Ah ma è 89 Mi pensavo che cos'era Vabbè ha lasciato Basta basta Mi scoccio Raga spero che questo video Può finire qui Abbiamo trovato un botto Di carte belle Quindi raga Questo video finisce qui E noi ci vediamo In un prossimo video Abbiamo trovato anche Salah E Cavani No Cavani l'avevamo già trovato Ronaldinho Si raga Quindi per questo spacchettamento Può finire qui E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi